Ehi raga, e niente, volevo vedere, questa è una sua gacha, comunque sono tutti schieno, ecce, l'ho disinstallato Perché non so nemmeno io il perché, perché volevo vedere, quindi, però, lasciamo a parte quello, voglio vedere che ship ci danno No, 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 non ci tengo, ti voglio bene Jacopo, ma non grazie No, no Che posso? Io non voglio uscire Di nuovo questa? Madonna No, no, non ci tengo Ok, questi, sì, no, quei, questi No, Dio Crescono, Jac e Max, ho visto che sono quasi, no 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 No, eh? No 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 Sembra questo No 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 Ah, ecco qua la coppietta, ecco qui Abbiamo fatto la coppietta Benissimo Benissimo Questo 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 Dovevo venire Dovevo venire, ma non è più venuto Dovevo venire, però Non ho fatto niente No Dovevo venire, però Dovevo venire, però non è venuto più Dovevo venire, ma non è venuto più Dovevo venire, se non è venuto più Il minuto più Un'ora È giocato Se avessi Ero È giocato ma giochiamo un po' rogo come mezzo scarico pur te signor jacobo è online parte il nome di mio padre signor jacobo è online questo è gacha con la live youtube questo è molto bello sto gioco non è più online no che cazzo sto facendo esci niente vediamo prendiamo qualche foto chi ne so youtube qualche foto a caso alle clash che schifo è sta roba giochiamo su google che voti io la faccio disegni di dog vabbè che ne so cosa cerchiamo buah nemmeno l'ho cercato che ne so che che prendiamo tipo ma quanto è brutto quello che non si fa clicchiamo da questo cliccati ecco no questo è carino lo so ecco vediamo sotto che cazzo c'entrano le ragazze ribloccate vabbè che ti chiamo tipo che ne so questo poi dobbiamo scaricare questi due occhi queste cose ci stanno anche tipo caricando e poi andiamola aspettate un attimo come tocca di ca 16 ecco mio dio perché si come ho detto gli occhi questa parte cioè se volete fare le cose bene fate come il mio raga ok ecco qua salva e salva salva come deve essere scusa così ah vabbè poi prendiamo il tizio aiuto il tizio eccolo qua così va per no prendiamo quel cosino e e buono è così piccolo come lo dovrei mettere questo tipo così ok poi lo sistimerò così pure figo però no ragazzi no così lo cerchiamo prendiamolo di nuovo non so se vuol bene quello dall'altro ma vediamo lo so eccolo vero ok noi aggiusteremo tutto non vi preoccupate ora così però è bello eh cioè se non volete fare una cosa tanto complicata e lo voglio far vedere alla fine però lo mettete così e così con le due ok ho spogato ora vabbè poi se non ho che spumino se vuole tenere così 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 e poi fa la sfogata così viene tipo l'effetto vista vista sono brava voi se volete fare sempre più sfumato basta che fate così a me si blocca un po' non so nemmeno ma si blocca fate la stessa cosa per qua non ne devo sfogare così tanto mano ci vuoltre oltre tanto tempo poi ho imparato a fare questi ho preso un tutore fate pure così se volete un po' pure mezzo io questa parte mi va bene questa non tanto un po' Grazie a tutti. vabbè più o meno così non l'ho posizionato bene per scegliere così però vabbè avete capito che l'ho trattato a questo avete capito più o meno come si fa dai? cioè quindi qua è il dettaglio di più non ci fa male però più o meno così lo fate più velocemente cioè come tutte le altre che ho fatto perché ci metto 30 anni guardate questo video e fate tutto prima no? ed ecco ho fatto pure questo date il dettaglio e il mio te con questo coccolo e addio